La DHL Aviation non abbandonerà lo scalo di Orio al serio. La decisione è stata comunicata ieri pomeriggio ai sindacati. Per la società di gestione, la SACBO, oltre che per le centinaia di lavoratori che ruotano attorno all'azienda, è un punto fermo importante. Durata del contratto e termini economici si discuteranno più avanti, per ora c'è la rassicurazione dei tedeschi di non voler andarsene dalla Bergamasca. Da tempo era stata ventilata l'ipotesi di un trasferimento di DHL presso l'aeroporto milanese della Malpensa. Il presidente della SACBO, l'imprenditore Miro Radici, ha detto che è una notizia che rende felici, molto importante per Bergamo, ma soprattutto per i tanti posti di lavoro che si è sempre cercato di salvaguardare, considerando tra l'altro questo particolare periodo storico. L'accordo tra la SACBO e la DHL Aviation, sottoscritto nel novembre 2006, scadrà il 31 dicembre 2013. Presente ad Orio dal 1976, la DHL trasporta oggi circa il 70% delle 112.000 tonnellate di merci che transitano dallo scalo aerobico. L'azienda, controllata dal colosso tedesco Deutsche Post, dà lavoro nella Bergamasca a quasi 500 persone, alle quali si ne aggiungono altre 1.200 d'indotto.